benvenuti al magnifico tempio di karnak qui a luxor egitto questo sito eccezionale è uno dei complessi religiosi più grandi mai costruiti nella storia dell'umanità coprendo circa 2 chilometro 4 oggi esploreremo questo luogo sacro in dettaglio che è stato sviluppato e abbellito da più di 30 faraoni nel corso di quasi 2000 anni karnak che significa villaggio fortificato è dedicato principalmente a amon ra il dio del sole e re degli dei nella mitologia egizia tuttavia qui si venerano anche altre divinità come mut la moglie di amon e con su loro figlio passeggiando per il tempio scoprirai che in realtà è una raccolta di templi piloni monumentali statue gigantesche e cortili maestosi iniziamo con la prima sezione l'avenue of sphinxes una strada pavimentata lunga quasi tre chilometri che una volta collegava karnak al tempio di luxor questo viale è fiancheggiato da sfingi con testa di ariete che simboleggiano la forza e la protezione divina di amon queste creature mitiche accoglievano i pellegrini diretti al santuario sacro di amon all'ingresso del complesso principale sarà immediatamente colpito dalla grandezza del primo pilone questo pilone massiccio sebbene incompleto è alto circa 40 metri ed è la struttura più grande di questo tipo in egitto ai lati dell'ingresso ciasi puoi ancora vedere i resti di quelle che un tempo erano statue colossali una volta dentro arriverai al grande cortile qui puoi vedere la cappella di seti tecudro e i resti di un piccolo tempio dedicato a rams 3 so ma ciò che cattura veramente l'attenzione è la grande sala ipostila una delle meraviglie architettoniche di karnak questa sala che copre più di 5000 mq è sostenuta da 134 colonne monumentali disposte in 16 file le colonne centrali raggiungono quasi 23 metri di altezza e sono decorate con geroglifici e scene che raffigurano i faraoni mentre pregano o fanno offerte agli dei qui ti senti davvero piccolo di fronte alla grandezza dell'antico egitto proseguendo scoprirai l'obelisco di tutmosis furfno uno dei più antichi obelischi d'egitto e quello di sua figlia la faraona hachepsut quest'ultimo è alto circa 29 metri e pesa quasi 350 tonnellate questi obelischi furono eretti per simboleggiare i raggi del sole e stabilire un collegamento diretto tra il faraone e il dio del sole amon ra continuando il nostro tour arriviamo al lago sacro un grande bacino rettangolare utilizzato dai sacerdoti per la purificazione prima dei rituali intorno al lago puoi ancora vedere lastre di pietra e resti di statue il lago sacro era anche utilizzato per cerimonie religiose legate al culto di amon con barche sacre che vi galleggiavano il tempio di amon a karnak non era solo un luogo di culto ma anche un centro di potere politico ed economico i faraoni costruirono qui non solo per guadagnarsi il favore degli dei ma anche per confermare la legittimità del loro governo era un luogo in cui cielo e terra si incontravano e dove le persone comunicavano con gli dei non dimentichiamo che ogni faraone che contribuì a karnak lasciò il proprio segno ramses goda noto per i suoi vasti progetti di costruzione e resse qui molte statue di se stesso e ampliò anche diverse sezioni del tempio la sua influenza è visibile ovunque a karnak con questi colossi maestosi e le iscrizioni in rilievo che raccontano le sue vittorie militari è importante comprendere che karnak non era solo un semplice tempio ma un complesso in continua evoluzione ogni generazione aggiungeva nuovi santuari colonne obelischi questo processo continuo di costruzione ricostruzione riflette non solo lo sviluppo dell'architettura egizia ma anche la continuità e la longevità del culto di amon nel corso dei secoli infine vorrei menzionare l'importanza astronomica di karnak il tempio è allineato con i punti cardinali e si dice che alcune parti siano state progettate per segnare eventi celesti come i solstizi gli antichi egizi attribuivano grande importanza ai cicli solari e lunari e karnak è un esempio significativo di ciò spero che abbiate apprezzato questo viaggio nella storia e nella grandezza del tempio di karnak è una delle testimonianze più impressionanti della civiltà egizia antica godetevi il resto della vostra visita qui al luxor una città piena di misteri e meraviglie